segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sentiamo salvini di che cosa parla andiamo subito a chi è la calenda disdettando l'accordo con la russia io non metto piede in russia da non so quanti anni e non ho mai fatto accordi commerciali con la russia a differenza di altri che hanno governato il centro sinistro una volta che è scoppiata la guerra per quello che mi riguarda chi invade chi aggredisce chi uccide chi bombarda chi semina morte distruzione odio non può avere a fare con me detto questo la mia agenda politica non l'ha detta né lei né calenda se possiamo parlare di sardegna ma perché non vale non vale lei è stata a mosca ultimamente io neanche perfetto no lei si è il mio mestiere calenda è stato in russia perfetto le chiediamo allora se ci sono domande più serie andiamo avanti altrimenti auguri alla 7 ma è un accordo che non esiste non esiste auguri buon lavoro c'era anche il movimento giovanile della lega buon lavoro buon lavoro posto e allora questa è la nostra incredibile non vale più e allora la notizia dell'ultimo minuto buon lavoro anche a calenda che invece oggi a due anni